Sette del CONI, ai campioni del mondo delle discipline olimpiche, conduce Andrea Fusco. Sette del CONI, ai campioni del mondo delle discipline olimpiche, conduce Andrea Fusco. Sette del CONI, ai campioni del mondo delle discipline olimpiche, conduce Andrea Fusco. Oltre a essere una campionessa che ha vinto tutto, è Sandro Campagna, commissario tecnico della palla nuoto, campione olimpico da giocatore e campione del mondo da allenatore. Quindi i collari li hai vinti tutti. Sì, anche le palme. Anche le palme, benissimo. Allora, siccome abbiamo tempi abbastanza stretti, direi di cominciare subito con i saluti istituzionali e chiamo proprio sul palco il padrone di casa, Giovanni Malagò. Mentre saluto il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e il Ministro dello Sport, Luca Lotti. Ma la parola va a Giovanni Malagò. Buongiorno a tutti. Siamo molto felici perché questa è la cerimonia delle cerimonie, quella più importante, quella di fine anno, in cui vogliamo premiare, vogliamo ricordare le atlete e gli atleti che hanno fatto grande lo sport italiano nell'anno 2017. I collari d'oro sono la massima beneficenza nel nostro mondo. Si assegnano a chi ha vinto un titolo mondiale olimpico e si assegnano a chi ha vinto un titolo mondiale di categoria assoluta. Insieme a questo c'è anche il riconoscimento della palma d'oro, riservato ai tecnici, agli allenatori che hanno accompagnato le atlete e gli atleti nelle loro imprese. Infatti è il motivo per cui, da quando io sono Presidente, ho sempre voluto due di voi, atleti e tecnici, che fossero con noi qui sul palco, come negli anni passati, atleti simboli, allenatori simbolo. In questo caso la scelta è andata su Elisa, bicampionessa olimpica, e peraltro neomamma, e a Sampagna, che oltre a essere stato un olimpionico di palanuoto e tecnico del Settebello. La cerimonia si svolge sempre con il Presidente del Consiglio e chi ci rappresenta nel Governo con la Delega per lo Sport e viene integrata con quello che sono i riconoscimenti per quelle società che hanno reso grande come associazioni il nostro mondo e che devono avere tre elementi che contraddistinguono questo riconoscimento. Cento anni di storia, massima e assoluta irreprensibilità morale durante la loro vita sportiva e risultati sportivi di altissimo. Concludo con un riconoscimento a dei dirigenti, a delle persone che comunque fanno grande lo sport italiano e a nome personale di tutto il Comitato Olimpico, in un anno che non è mai stato così numericamente significativo, da quando esiste lo sport in Italia non si sono mai vinti come nel 2017 così tanti titoli mondiali individuali, per cui quest'anno la cerimonia è particolarmente significativa e quindi questo dato che mi rende particolarmente orgoglioso, così come ci stiamo preparando ad andare a Pyongyang in Corea per le Olimpiadi Invernali e ieri è stata data la bandiera, il tricolore alla nostra Arianna Fontana e il migliore auspicio insieme ai miei auguri di Buon Natale e di un felice 2018 a tutto il mondo dello sport e al nostro Paese che siamo orgogliosi di servirlo più che mai con questi risultati. Ovviamente oggi insieme a voi ci sono tutti gli amici del Comitato Paralimpico che altrettanto viene riconosciuto questo attestato che il mio amico collega Luca Pancalli sarà tanto felice di presentarvi. Auguri, felice 2018. Grazie. Grazie al Presidente del CONI Giovanni Malagò. La parola va proprio al Presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli. Mi metto qua onde evitare di dare anche spalle. Innanzitutto buongiorno a tutti, Presidente Gentiloni, Ministro Lotti, Giovanni, autorità militari, civili, soprattutto atleti d'atlete perché siete e sarete sempre i protagonisti di queste cerimonie. Per me è un grande onore oggi poter prendere la parola, soprattutto in un'occasione cerimoniale come questa, dove premiamo le eccellenze del 2017, coloro che hanno tenuto alto il tricolore, coloro che hanno conquistato il lungo e largo per il mondo all'Ori dal punto di vista agonistico, insieme ai grandi atleti olimpici, i grandi atleti paralimpici. Io credo che questa, come dicevo ieri al Presidente della Repubblica, sia la più bella immagine di un'istantanea, di un Paese che grazie allo sport riesce a creare anche quel processo di inclusione e integrazione che noi amiamo. Io credo che quello che si è fatto nel mondo dello sport non si è ancora riuscito a fare nel mondo della società civile. E caro Presidente Gentiloni, io devo un ringraziamento anche al Governo, lo faccio, non sono solito alla piageria, quello che penso dico e la gente che mi conosce lo sa. Però questo 2017 è stato anche per noi l'anno del riconoscimento del Comitato Italiano Paralimpio come ente pubblico, grazie al sostegno del Governo, grazie al Ministro Lotti che oramai è un affezionato del nostro movimento, e io credo che su questo si debba andare al di là dell'aspetto formale. Il riconoscimento dell'ente pubblico significa, e del Comitato Paralimpico, aver dato dignità ad un movimento, aver fatto uscire dall'angolo un movimento, aver dato visibilità, aver acceso i riflettori sui nostri atleti. E accendere i riflettori sui risultati dei nostri atleti significa accendere i riflettori su un movimento che fa dello sport uno strumento di politica attiva per far crescere il territorio, ma soprattutto per far crescere la cultura del Paese. L'immagine di atleti che hanno reso l'impossibile possibile, l'immagine di ragazzi e ragazze ai quali è stata data un'opportunità di esprimersi nella dimensione sportiva, e lo hanno fatto, e lo hanno fatto alla grande, e hanno fatto giuire il Paese, e tante persone che oggi si sono accorte di loro e delle loro gesta sportive, non aiuta solamente il mondo dello sport, aiuta questo Paese a crescere, perché un Paese non cresce solamente quando cresce il PIL, un Paese cresce anche quando si investe sul capitale umano del Paese, e noi, attraverso la nostra azione, investiamo sulla crescita culturale del nostro Paese. Auguri a tutti. Grazie a tutti per questa mattinata, grazie ai presidenti Malagò e Pancalli, grazie al CONI, per me è un privilegio straordinario quello poi di avere la possibilità in questa premiazione di vedere tantissimi miti sportivi, sia quelli di quando ero un pochino più giovane, sia quelli contemporanei, quindi credo una bellissima occasione per tutti noi, per il mondo dello sport, per chi ci guarda dalla televisione. Colpisce innanzitutto il numero di persone, di atleti, che hanno ottenuto dei risultati straordinari l'anno scorso. Colpisce, a me che lo guardo, l'impegno che in questo hanno profuso anche le forze armate. Qui, tra un po' se arruolano anche Nibali e Federica Pellegrini, c'è uno schieramento militare totale nella prima fila. Ma credo che sia un merito, mi auguro che Nibali e Pellegrini resistano, ma credo che sia un merito del movimento sportivo, quello di avere nelle forze armate una forza di propulsione così straordinaria. A giornata importante, come dicevano Malagò e Pancalli, si premiano i migliori atleti, i migliori dirigenti, si premiano dei simboli del nostro mondo sportivo. In questo modo si dà un riconoscimento in generale al movimento dello sport, agli sport maggiori e minori. Dai maggiori abbiamo avuto qualche delusione di recente, ma insomma si premia l'insieme del nostro movimento. 15 milioni di italiani che fanno sport, oltre 100 mila società sportive. un contributo, io credo, importante alla nostra società. Certamente si fa spesso molta retorica anche sullo sport, e la facciamo tutti noi, anche noi politici, molto spesso usiamo il linguaggio sportivo nelle nostre discussioni. però non c'è dubbio che innanzitutto ci siano dei valori che dobbiamo coltivare nel vostro impegno. E in secondo luogo ci siano anche delle conseguenze sociali per il benessere della nostra società, per il benessere degli italiani, nell'esempio che viene dato per diffondere il movimento sportivo. Noi siamo un Paese che ha, per fortuna, una alta aspettativa di vita, una buona dieta alimentare, però sappiamo che l'impegno nello sport, l'attività fisica, della quale i grandi campioni sono i migliori promotori, è un contributo fondamentale alla buona salute di una società. E quindi credo che sia anche questo un merito del movimento sportivo quello di promuovere uno stile di vita il più possibile compatibile con la salute, con l'ambiente, con la sottenibilità, con l'accoglienza, con l'apertura a mondi e esperienze diverse. Tantissimi insegnamenti ci vengono dal mondo sportivo. E ci viene anche un contributo economico. Non dimentichiamo mai che dai successi dei nostri campioni, dai successi delle nostre atlete, dai successi dei nostri campioni e delle nostre campionesse paralimpiche, viene anche un impulso, per così dire, economico. La qualità dell'impiantistica, dell'export italiano, è un campo sportivo, è straordinaria. Siamo i secondi in Europa dopo la Germania. Siamo orgogliosi anche di questo, cioè del fatto che il movimento sportivo promuove un settore dell'economia italiana che è anche un'incidenza rilevante. E infine, come Governo, anch'io devo ringraziare il Ministro Lotti, che normalmente si occupa molto di cose iperpolitiche, però si è appassionato in questo periodo alla sua funzione di Ministro dello Sport, davvero, e ha dato un contributo a un impegno, che certamente è un impegno storico, di cercare di diffondere il più possibile il movimento sportivo. Perché ogni volta che in una città, in un quartiere, si apre una palestra, una piscina, un campo sportivo, noi sappiamo che è un passo avanti per la nostra coesione sociale, per la nostra sicurezza, per la nostra democrazia. Quindi c'è molto da fare per rendere ancora più diffuso e più forte un movimento che comunque è così rilevante. Abbiamo qui tanti atleti che ci hanno fatto sognare le vittorie dell'anno che sta terminando. Penso all'oro di Federica Pellegrini a Budapest, penso ai successi di Bebbe Vio, che vedo lì lontana e saluto ai tanti successi nel Fioretto. E le cito per citare tutti voi, sono quelli che sono rimasti molto negli occhi e nella memoria degli italiani. Dovete sapere che questi risultati sono risultati che ci fanno essere orgogliosi di essere italiani. Banalmente, semplicemente, è così. Sappiamo che dietro c'è una fatica micidiale, un impegno quotidiano, gli allenamenti, la disciplina, lo spirito di squadra quando c'è un gioco di squadra. Ma, come diceva Pietro Mennea, grande simbolo per la mia generazione, la fatica non è mai sprecata. soffri, ma sogni, diceva la Freccia del Sud. E quindi, grazie per il fatto che il vostro lavoro, il vostro sacrificio, il vostro impegno quotidiano, poi alla fine produce sogni e fa sognare un intero Paese. E noi abbiamo bisogno anche di sognare in questo momento, che è un momento in cui le cose stanno andando un po' meglio, ma abbiamo tante ferite da ricucire e da rimarginare. Quindi, auguri, auguri al CONI per i prossimi giochi olimpici in Sud Corea, auguri agli atleti che saranno impegnati e grazie per il fatto che ci fate sognare qualche volta anche commuovere quando sentiamo l'inno nazionale, guardiamo il tricolore. Siamo orgogliosi di essere italiani. Abbiamo veramente un grandissimo bisogno di essere orgogliosi di essere italiani. Grazie, grazie per quello che fate. Grazie al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Prima di entrare nel vivo della cerimonia vi rubo dieci secondi per i ringraziamenti. Intanto ringrazio l'Ufficio Stampa del CONI, Danilo Di Tommaso, Fabrizio Marchetti, Claudio Miele, Filippo Consales. Vi ricordo che la regia è di Pietro Sollecchia, le riprese sono dall'esterno Roma 3, il coordinamento è di Riccardo Pescante. Loredana Rossini invece cura l'organizzazione mentre ricerca immagini di Alessandra Vagnozzi e tutte le clip sono state realizzate da Gianmichele Lizio. Tu hai paura degli squali? No, perché non ho mai visto uno, sinceramente. Allora te le faccio vedere subito uno. Grazie. Vincenzo Nibali Allora Vincenzo, Io mi avvicino ma poco eh. Volevo soltanto sapere Vincenzo Nibali che non era presente lo scorso anno perché non poteva venire alla cerimonia dei Collari d'Oro, vincitore lo scorso anno del Giro d'Italia. Che cosa ti senti di promettere quest'anno? Innanzitutto volevo salutare tutti quanti per questo rinnovato, insomma, per essere qui e sono veramente molto emozionato e per me è veramente una bellissima cosa e per questo nuovo anno, come ho già detto, quindi ci sarà per me il Tour de France e spero di magari di ripetermi. Vediamo, sarà molto difficile. Che cos'altro ti aspetti? Cioè a parte il Tour de France, che cosa sai incattare? Hai ancora? Beh, ci sono un po' di riscatti. Prima di tutto c'è un mondiale che ci aspetta a Innsbruck e poi il ricordo, beh, più brutto che è stato quello delle Olimpide di Rio e magari riprovarci tra qualche anno. Grazie. La premiazione del Presidente Gentiloni. Grazie a Vincenzo Nibali. Rimaniamo sempre nel campo del ciclismo con Alessandro Zanardi, Luca Mazzone, Paolo Cecchetto e Francesca Porcellato. Grazie a Vincenzo Nibali. Ecco, Alessandro Zanardi. Sandro, parlando di Alessandro Zanardi, che cos'è soprattutto che ti colpisce, che ti crea stupore? Vieni, Alex. Non ci sono aggettivi per descrivere Alex. È una persona straordinaria più che un grandissimo atleta. Per cui il suo esempio che sia veramente ad esempio per tutti quanti, soprattutto per i più giovani. Che cosa ti senti di promettere questa volta, Alessandro? L'uomo senza confini. No, scusate, sono un po' spiazzato perché non mi aspettavo di salire così rapidamente sul podio. Anche se devo dire che io sono uno che ha fretta per natura, no? E questa mia attitudine mi ha effettivamente portato ad andare all'incarca. Di tante soddisfazioni sportive. Come si dice, l'erba cattiva non muore mai. Mi auguro di poterne raccogliere ancora perché mi sento ancora bene, il fisico tiene. Scientificamente sarebbe abbastanza poter realizzare un sogno, arrivare fino ai giochi di Tokyo nel 2020. Presidenti, però perché non provarci, no? Quindi già l'anno prossimo cercherò di cimentarmi nuovamente con impegno nelle varie gare internazionali e rappresentare con un paese perché sin da quando mi diedero quel gagliardetto da attaccare la mia tuta ai tempi del go-kart quando entrai a far parte del club azzurro, insomma ricordo la mia attenzione di rappresentare il mio paese. Un ruolo per il quale non ti senti mai sufficientemente adeguato però puoi solo farlo al meglio delle tue capacità e insomma cercherò di continuare a fare questa cosa. In bocca al lupo Alex. Grazie. Grazie a tutti. La prima azione del presidente Luca Pancalli, del presidente Gentiloni, del ministro dello sport Luca Lotti e del presidente del CONI Giovanni Malagò. Grazie a Zanardi, Mazzone, Cecchetto e Porcetto. E passiamo adesso... Ti piace il canottaggio Elisa? Sì, 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 mi piace. Deve dire per forza di sì. Non ci sono gli squali però, eh. No, no, non ci stanno gli squali. Allora, chiamiamo subito Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, campioni mondiali del due senza. E siamo davanti, siamo davanti quando mancano veramente poche decine di metri, siamo sotto a guarda e medaglia dopo. Vittoria, vittoria. Beh, insomma, vi siete rese conti dell'impresa che siete riusciti a centrare? Sì, è una delle delle imprese che veramente rimarranno stampate nella mia testa perché nessuno mai in Italia aveva vinto in questa specialità e quindi siamo stati primi a vincere l'oro mondiale nel due senza. E poi, soprattutto, la voglia di ripetersi? Beh, sicuramente, sicuramente c'è tanta voglia e siamo giovani, abbiamo tanta voglia di crescere ancora e speriamo di continuare sempre meglio e regalare grandi soddisfazioni. Sandro, c'è una similitudine tra canottaggio e pallannuoto, almeno come impegno fisico, come fatica? Sicuramente la fatica, sì. Poi, chiaramente, le metodologie sono completamente diverse, però, se non hai una forza mentale non puoi raggiungere certi traguardi. Ecco la premiazione da parte del Presidente Malagò, da parte del Presidente Gentiloni per Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. Restiamo sempre nel mondo della fatica, questa volta per la canoa. Gabriel Esteban Farid Rias, mondiale 200 metri KL1. complimenti, Gabriel. Grazie, grazie. Allora, ci racconti quell'impresa? È un'impresa fantastica. Il primo anno del mondiale è stato un anno fantastico. Europeo, fatto europeo, europeo e mondiale è qualcosa di straordinario. Essere lì e arrivare primo e far bene per la mia prima volta è stato qualcosa di bello e di straordinario. davvero di straordinario. Elisa, che cosa ammiri in questi atleti? Posso avvicinarmi? Cioè, per due ad avvicinarvi. Che cosa ammiri soprattutto in questi atleti che hanno nella forza di carattere e nella voca la loro arma migliore? Tutto, tutto. Come diceva prima il signor Gentiloni l'impegno, il sacrificio è ciò che ci contraddistingue a noi atleti ed è sempre importante non mollare mai. Sembra una frase fatta ma è sempre importante non mollare mai l'obiettivo. Non mollare mai. Giusto. Non mollare mai e inseguire i propri sogni. Noi stiamo facendo qualcosa di importante con la federazione e con la società e il nostro obiettivo principale adesso è. Grazie. Premia il presidente Luca Pancalli. Visto già che è carrellata di campioni che abbiamo chiamato Sandro ed Elisa? Sono stati straordinari ma ce ne saranno altri grandiose. E passiamo all'atletica all'atletica ha vinto il mondiale di salto in lungo T11 Ariola De Dai ecco l'accompagnata Ariola De Dai mi avvicino mentre riceve i complimenti chiedo scusa al ministro Lotti allora Ariola ci ricordi quanto hai saltato? allora i 4 e 65 al quarto salto è stata un'emozione assolutamente unica indimenticabile e quando ricorda con queste immagini mi commuovo ancora oggi voglio fare una piccola appendice a questo risultato perché io questo risultato l'ho tenuto grazie alla mia dolce metà Emanuele Di Marino nonché copia dei sogni perché grazie a lui è solo grazie a lui che sono riuscita ad arrivare qui da due anni ad oggi purtroppo affrontiamo un tema importante che è quello delle guide che purtroppo noi non vedenti abbiamo assolutamente bisogno e siamo completamente assenti da questa figura e senza il suo supporto non avrei potuto neanche allenarmi giorno dopo giorno quindi faccio un appello a tutte le istituzioni ai ministri e alle autorità militare di prendere a cuore questa situazione e cercare di risolverla è un appello vediamo come lo recepisce il ministro dello sport Luca Lozzi è un appello che raccogliamo subito anzi ci mettiamo al lavoro perché sappiamo cosa vuol e cosa significa e siamo disponibilissimi a mettersi subito in moto e a mettersi al lavoro grazie a voi è la promessa del ministro Luca Lotti Presidente Gentiloni lei sta facendo tutt'altro nella vita ma che tipo di sportivo avrebbe voluto essere? ma io giocavo volevo essere uno schermitore un calciatore giocavo moderatamente a tennis a tennis moderatamente ma riprenderò presto mi sembra che gli scambi stiano avvenendo non mancano gli scambi grazie allora per questa premiazione ad Ariola Dedai e passiamo al Karate Kumite Open lui è campione del mondo Pasquale Longobardi complimenti complimenti Pasquale per questa impresa allora Sandra ed Elisa abbiamo visto già differenti discipline Karate Canottaggio Canoa però sono sempre sono sempre là sono sempre campioni sempre con la voglia di combattere e di andare avanti anche Pasquale Longobardi ha vinto la non facile categoria del Karate Kumite Open e poi il Karate è una nuova disciplina olimpica per cui contiamo molto che continuino su questi livelli per i prossimi tre anni non diciamo altro per Scaramanzia per Scaramanzia Elisa è un pensiero per questo campione di Karate a parte che insomma è ben strutturato sì sì è molto molto grande molto imponente un pensiero amichevole naturalmente bravo 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 ecco se l'è cavata così Elisa Di Francisca premia il ministro dello sport Luca Lotti grazie a Pasquale Longobardi adesso chiedo grazie Pasquale Longobardi chiedo alla mia compagna di sala Elisa Di Francisca di annunciare la scherma perché abbiamo un campione del mondo di spada individuale poi abbiamo il fioretto a squadre non c'è di annuncio di Karate però ci sono ci sono Paolo Pizzo Martina Batini Camilla Mancini Alice Volpi Martina Criscio Rossella Gregorio Loretta Gullotta Irene Vecchi Giorgio Avola e Alessio Foconi e vediamo la clip mamma mia oh raga e andiamo andiamo a qua va a dare Allora questa era la clip dedicata proprio alla scherma la parola a te io mi tiro fuori pure con una domanda a un atleta a un atleta a tua io ho la casa allora per me è un'emozione grandissima essere qui insieme a loro insieme a questi campioni mi sento mi sento in famiglia adesso un po' più protetta rispetto a prima e prendo il microfono e faccio ce l'hai già il microfono si parla di udare va vicino proprio volevo dare la parola al grande Paolo innanzitutto al grande Paolo Pizzo che quest'anno al mondiale mentre io ero scusate le spalle mentre io ero un po' pienetta davanti quindi ero incinta e stavo lì lì per partorire Paolo vinceva questo secondo mondiale sì grazie a tutti un veloce ringraziamento all'aeronautica militare che mi permette da 15 anni di allenarmi ad altissimi livelli dopodiché a mia moglie topporta mi supporta se a 34 anni ho vinto il mio secondo mondiale lo devo alla sua pazienza bravo hai un'altra domanda a disposizione per un'altra atleta ah solo una? sì vai beh allora vado vado dalla grande Alice Volpi che sta che sta facendo prima saluto innanzitutto Martina Batini che è in dolce attesa in dolce attesa quindi mi sento un po' vicina alla grande partita però non sta partorendo ecco Alice stai arrivando sempre lì sempre vicino sempre vicino all'osso tra virgolette lo vogliamo spolpare quest'osso Alice? sì sì in effetti è la quarta gara che arrivo seconda quindi questo primo mondiale è andato alla grande perché abbiamo avuto a squadra e sono contentissima insomma bene è uno sport individuale è uno sport di squadra come sappiamo la scherma quindi continua così fermati quando ricomincio io diciamo ecco e basta ho finito le domande no vero no ce n'è ancora una grazie vai dai maschietti magari sì andiamo dai maschi andiamo dai maschietti come chi vuole parlare di due Giorgio o Alessio decido io ok Giorgio allora diciamo che anche tu hai fatto una una bella bellina stagione diciamo Giorgio Inosco è un atleta molto molto forte ha ha un buon tempo si dice nel gergo schermistico e speriamo tu lo abbia anche con la parola il buon tempo ovviamente sono felicissimo di essere qui ringrazio anch'io le flamme gialle che mi permettono davvero di allenarmi al meglio noi da 4-5 anni viviamo una cerchiamo di arginare gli Stati Uniti che stanno arrivando a dei livelli incredibili in pochissimo tempo questa è la nostra seconda finale mondiale stavolta ce la siamo visti veramente brutta però sono molto contento di essere riuscito ancora una volta a fare loro a casa quindi ogni anno è sempre più difficile ma forti la nostra tradizione cerchiamo di difenderci ok grazie ecco la premiazione Elisa ritorna torna vieni pure tanto questa è una cerimonia sia ufficiale ma anche una cerimonia in famiglia per cui ci possiamo permettere determinati passaggi tu e la scherma due parallele che non si incontrano mai no 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 non è vero a parte il fatto che Pizzo come Garozzo sono siciliani per cui li seguo da tanto tempo insomma e poi che per tradizione ha portato tante medaglie e quindi li guardo sempre con grande ammirazione bravo bravo grazie e rimaniamo nel campo della scherma con Ionella Mogos Loredana Trigilia Alessio Sarri Matteo Betti Marco Cima Emanuele Lambertini Gabriele Leo Pizzi questa me l'annunci tu per favore questa atleta bebe già lo so bebe 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 eccola bellissima sì 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 la quarantacinquesima stoccata e conquista dunque l'oro iridato tacco parato la risposta tocca ancora ed è la quarantesima stoccata eccola è la quarantacinquesima stoccata l'Italia delle fioretti a squadre e campione del mondo a messa campione del mondo 2017 sì vediamo sì è qui la quindicesima stoccata secondo titolo mondiale si riconferma sul trono mondiale l'Italia ci perdoneranno tutti gli altri atleti protagonisti delle loro straordinarie imprese Elisa Elisa puoi chiedere a Bebbe e io per favore se tra televisione sfilate di moda lavori di design si è montata la testa oppure è ancora la ragazza che abbiamo conosciuto all'inizio della straordinaria avventura libri perché adesso è uscito anche un tuo bellissimo libro recentemente quindi sei davvero a 360 gradi di Bebbe no vabbè non penso di essere montata la testa cioè spero questo forse devono dirlo loro però no adesso sono contenta perché adesso smetto tutto ho preso a casa Roma e ho vinto l'università quindi sono molto contenta ecco è contenta vai grazie vai Elisa questa ragazza trasmette un'energia una forza una gioia una felicità solo stando zitta ecco solo guardandola l'ammiro molto c'è molto da imparare da questa ragazza Bebbe quali sono i tuoi progetti? scusa raccontaci i tuoi progetti perché tra le tante cose che fai vorremmo capire un po' in quale direzione ti stai dirigendo racconta la verità e di lì dove vuoi andare e quale posto vuoi prendere? no adesso devo prendere la patente prima più importante però no diciamo che stiamo lavorando tanto tutti insieme come squadra stiamo veramente lavorando tanto e devo dire che con tutti gli ultimi ritiri che abbiamo fatto direi che i risultati comunque sono visti abbiamo fatto dei risultati pazzeschi tutti quanti non era mai successo che vincessimo così tante gare a squadra e quindi per noi è la cosa più bella di tutte e adesso prossimi obiettivi abbiamo inizio tutto il giro di coppe del mondo e poi ci saranno gli europei a Terni quindi a casa diciamo e poi diventerai ministro dello sport no tranquillo no avete detto presidente del coni presidente del coni giusto misto si si un misto tra pancali e malagò capelli bianchi in mezzo in carrosina va bene hai avuto l'approvazione da parte del presidente allora premiamo Bebe Bio Ionella Mogos Loredana Trigilia Alessio Sarri Matteo Betti Marco Cima Emanuele Lambertini e Gabriele Leopizzi che stai dicendo Elisa? no dicevo non scotta il microfono non lo voleva non lo guardava tutti quanti aveva paura era il timoreto cioè voi atleti siete capaci di disputare delle finali davanti a migliaia di persone e poi magari davanti a un microfono vi impaurite è vero? infatti abbiamo la maschera quindi è tutto più facile non mi sembra sia il tuo caso questo però non lo so dipende diciamo di no e neanche quello di Sandro Campagna ecco la premiazione mancano due ancora Sandro quando parli di questi atleti che cos'è che ti piace soprattutto sottolineare quando guardi le imprese ad esempio appunto di una Bebe Bio che va a conquistare il titolo mondiale? guarda al di là della loro forza mentale della grande umanità è evidente sotto gli occhi di tutti io non trascorrerei anche l'aspetto sportivo perché questi ragazzi sono stati campioni olimpici si sono confermati si sono migliorati i amici della scherma mi dicono che la distanza che c'è stata adesso dai centi mondiali è stata maggiore rispetto a quello delle Olimpiadi quindi significa che quest'anno avranno avuto pure la celebrità avranno giustamente avuto un ritorno popolare però si sono migliorati e quindi significa che hanno affrontato con grande serietà e determinazione ogni singolo allenamento complimenti complimenti e in bocca al lupo per il vostro futuro e noi andiamo avanti con la cerimonia e passiamo al tiro con l'arco potrebbe essere frangili testimone passato a Nespoli Italia campione del mondo Italia squadre Marco Gagliazzo Mauro Nespoli David Pasqualucci allora Marco Gagliazzo vedo che hai fatto dilagare la moda del copricapo a frittella a padella perché anche i tuoi compagni lo indossavano sì diciamo non è tanto per l'estetica ma per la funzionalità non è un gran bel vedere a livello però noi serve così e quindi lo indossiamo quello Sandro tu lo segui il tiro con l'arco assolutamente sì perché a Londra se non ricordo male è stata la prima medaglia d'oro di quella edizione quindi invito a che tutta Casa Italia e tutto il villaggio olimpico e la parte italiana esplose di gioia per quella prima medaglia Qual è stato il momento più difficile di quella gara? Sicuramente la semifinale contro la Corea del Sud sono i mostri sacri di questo sport siamo riusciti a imporre la competizione fin dall'inizio hanno poi recuperato e alla freccia di spareggio abbiamo conquistato poi l'accesso per la medaglia d'oro quello è stato il momento che ci ha forse convinti che da lì in poi la medaglia era veramente alla portata E l'appetito vi è mangiando perché adesso gli obiettivi sono? Gli obiettivi adesso sicuramente sono ripetersi e cercare di fare al massimo di quello che possiamo al prossimo anno per poi arrivare a Tokyo nelle migliori delle condizioni e cercare di rifarci dopo Rio bene in bocca al lupo grazie è il momento della premiazione per Tia Gagliazzo Mauro Nespoli e David Pasqualucci noi restiamo sempre nel campo del tiro con l'arco ecco giriamo il premio a beneficio anche dei fotografi grazie restiamo sempre nel campo del tiro con l'arco con Elisabetta Mino e Stefano Travisani ecco li qua allora Elisabetta cosa ricordi di quel giorno tutto e niente perché quando c'è l'adrenalina poi diventa difficile ricordo Stefano Pivello primo mondiale e me lo dovevo trascinare un po' dietro perché era un po' spaventato come giusto che sia la prima volta però è stato bravissimo lui ha sopportato me i giorni prima e io poi l'ho fatto l'ultimo giorno come vettima dovevo farlo insomma e l'emozione di vincere un mondiale ovviamente la conosce chi l'ha già fatto è difficile da descrivere e poi ricordo i momenti che sono venuti dopo che io dico sempre che è molto bel corso più che l'arrivo no la finale è una cosa meravigliosa ma tutto quello che c'è stato prima è stato fantastico abbiamo battuto una squadra che fino a quel momento non eravamo mai riusciti a battere quindi molto contenti Stefano quando hai realizzato quando hai capito veramente che avevi vinto questo prestigioso titolo forse non l'ho ancora capito il fatto di essere qua in mezzo a tantissimi campioni a soli due anni e sei mesi di distanza da quello che è stato l'incidente insomma è ancora difficile da realizzare lo sport da un lato mi ha tolto tanto ma mi ha ridato con gli interessi quindi sono assolutamente contento grazie Stefano premiamo dunque Elisabetta Minio e Stefano Travisani il dispendio energetico di questi atleti di tiro all'arco è elevatissimo chiaramente a livello mentale perché c'è una concentrativa pazzesca per cui basta un minimo di distrazione che comprometti anni di lavoro esatto ecco la premiazione per Elisabetta Minio e Stefano Travisani grazie tiro con l'arco e noi dal tiro con l'arco passiamo al tiro a volo Jessica Rossi Gabriella Rossi Dabrianna Rossiti Daniele Rossini Chiamiamo sul palco Daniele Resca, Gabriele Rossetti e Jessica Rossi Elisa Di Francisca è una grande appassionata di tira-volo e penso che tu abbia una domanda per Jessica Rossi che è davvero imbattibile, ha dimostrato di essere imperforabile ormai diciamo che io sono appassionata di Jessica non di tira-volo, perché non ci capisco granché, lasciamolo fare a lei la mia domanda è appunto come fai, come hai fatto a Londra ma come fai sempre, non solo nelle competizioni importanti a mantenere sempre la stessa lucidità, freddezza concentrazione? Questa è una domanda per te stessa come fai tu giocava più in pochi perfetto no, è ovvio che in quei momenti sia talmente concentrati che non ci rendiamo neanche conto di quello che succede attorno a noi io dico sempre che siamo io il fucile e il piattello, non c'è altro siamo chiusi dentro le nostre cuffie quindi ci chiudiamo in noi stessi e riusciamo appunto a prendere tutta la concentrazione necessaria grazie Jessica ed ecco il premio per Daniele Resca Gabriele Rossetti e Jessica Rossi stiamo parlando di tiro a volo Presidente Gentiloni abbiamo visto per il momento, ripeteremo ancora tante discipline sportive la politica a quale sport assomiglia in particolare? al pugilato, alla scherma, al tira al volo al tira al bersaglio sarebbe fin troppo facile questi quattro tutti e quattro aggiungerei lo sci di fondo e mi piace molto questo raggruppamento interforze polizia carabiniera bravissimi grazie grazie a tutti e tre per essere stati con noi e passiamo al tennis tavolo ecco questo molto amministratto e la palla finisce fuori e pronto per l'Italia nel bronzo della corsa Santo tu stai giocare a tennis tavolo? sì certo sei bravo? abbastanza ma mai quanto Andrea Borgato Federico Falco Giada Rossi e Michela Brunelli che sono già saresti sul palco prima abbiamo privilegiato come giusto le signore adesso invece mi avvicino a uno dei maschietti premiati allora quante ore di allenamento al giorno e cosa comporta questa disciplina? dalle due alle quattro allenamento al giorno a meno dei raduni dove ci alleniamo sei sette ore al giorno e comporta tanto sacrificio tanta ripetizione dei singoli colpi più volte centinaia migliaia di volte e comporta una discreta intelligenza tattica e tecnica nel capire l'avversario le sue qualità e i suoi difetti questo è Elisa hai una domanda per una delle due protagoniste nel tennis tavolo? allora diciamo che questo è uno sport che conosco non lo pratichi? quindi visto che lo conosco siete sposate fidanzate insomma che segno siete? segno zodiacale? io sì sono un compagno da nove anni lei è single è più giovane oh è quale migliore se li vuoi domandare tu sei in cerca di un compagno? in cerca però il tennis tavolo non lo lasciai? quello è un compagno inseparabile? sì sono all'inizio quindi sicuramente voglio dare tanto ancora e voglio ricevere tanto da questo sport impegnarmi e arrivare al massimo ci sei già riuscita grazie grazie ad Andrea Borgato Federica Falco Giada Rossi e Michela Brunelli verranno consegnati i premi tennis tavolo anche ti impressiona come disciplina come dispendio energetico perché sembra lì c'è anche la componente fisica naturalmente perché ti devi sapere allenare e avere resistenza specifica allora adesso passiamo al motociclismo Antonio Cairoli mondiale motocross nono titolo benvenuto benvenuto Antonio vieni benvenuto piacere sei pronto per andare in moto? che hai già il sono arrivato in moto perché ero in ritardo quindi scusate in ritardo ma ero andato all'altro non leggendo le mail sbagliando sbagliando dove sei andato? al salone del coni di là sì e tu hai detto come mai non c'era? arrivo lì busso c'era un altro evento mi sa che non sono qua vabbè l'obiettivo è quello di arrivare al decimo titolo mondiale di eguagliare un altro campione l'obiettivo sì intanto grazie dell'invito è sempre un piacere ricevere questo premio per la nonna volta quindi sono contentissimo l'obiettivo è quello di avvincere 11 titoli non 10 perché 10 è quello che ne ha vinti di più in tutto il mondo l'obiettivo è arrivare a 11 e quindi siamo lì vicino avanza però noi cerchiamo di essere giovani dentro e dare gas tu sapresti fare quello che fa no escluso anche per la schiena lasciamo perdere assolutamente tu meglio che ammiro l'ingresso ammiro la sana follia ecco grazie grazie ad Antonio Cairoli andiamo avanti sempre con il motociclismo con Chiara Fontanesi ecco Chiara Fontanesi sembra tanto tranquilla la signora da porta accanto e invece hai visto che cosa fa sono proprio quelle che mettono più paura le acquechete io diffiderei e comunque complimenti anche perché è una collega una collega delle fiamme oro e della polizia la scuola impennando? no ma quasi dai ho iniziato due anni e mezzo due anni e mezzo adesso quali sono i tuoi obiettivi Chiara? ma diciamo che mi sto riprendendo un po' adesso perché dopo aver perso il primo mondiale l'anno scorso dopo averne 24 è stato un anno un po' difficile volevo correre quest'anno come se fosse l'ultimo quindi ho dato veramente tanto sono riusciti a vincere sia l'italiano che il mondiale e sono 5 quindi inizia ad essere qualcosa di importante dato che comunque già 4 avevano fatto un po' la storia 5 hanno completato un po' il tutto avevo quasi pensato che 5 era il numero perfetto però con l'opportunità che ci sarà l'anno prossimo di correre tre gare del campionato del mondo in Italia è un'occasione che non mi ricapiterà mai più e quindi bisogna cercare di portare avanti sempre al meglio anche le gare per il prossimo anno in bocca al lupo grazie Chiara Fontanesi Franco Morbidelli Mondiale Velocità Moto2 anche qui benvenuto Franco buongiorno a tutti allora buongiorno buongiorno a tutti ciao Cairoli aveva il tu lo sei tolto adesso il casco si io ce l'ho sempre in testa il casco no no lo vediamo dico senti ma ecco questo sei sei tu quando hai capito di aver vinto il titolo mondiale ah beh un titolo mondiale capisci di averlo vinto solo dopo che l'hai vinto purtroppo è comunque un processo difficile c'è tanto lavoro dietro è stato molto complesso volevo ringraziare dopo tutti i ringraziamenti che si fanno in questi casi il team i meccanici tutti volevo ringraziare il presidente della FMI Giovanni Gopioli che a un certo punto dell'anno che a un certo punto dell'anno ha cominciato a essere il mio mental coach dopo le gare mi mandava messaggi di incitamento oppure dopo che andava male mi mi incoraggiava quindi grazie e grazie a tutti grazie a te e complimenti per la tua impresa Franco e adesso passiamo al un secondo solo lo faccio sempre però più che mai oggi obbligato medaglie d'oro la storia dello sport Diana Bianchetti Nino Benvevuti Klaus Bidiasi l'amico Gandolfi Mario Fiorillo Carlo Molfetta Nicola Pietrangeli Zipi Bonie chiedo scusa Michele Maffei grazie grazie a Franco Morbidelli e adesso passiamo alle personalità e cominciamo con Ivo Ferriani presidente della federazione Bob Skeleton membro CIO l'attende un compito qua è il partito Baltrinieri poi recuperiamo Baltrinieri non fa niente non ci riguarda Ivo Ferriani l'attende un compito importante perché fra poco ci saranno i giochi invernali quindi grande responsabilità certo responsabilità anche onore chiaramente rappresentando anche il Cion Italia ma soprattutto l'Italia io voglio far vedere che gli italiani sanno prendere decisioni importanti in questo momento difficile e siamo qui per questo perché noi italiani abbiamo sempre la capacità di mettere la passione ma anche il raziocinio di mettere la creatività ma poi anche la determinazione di arrivare a prendere delle decisioni importanti e sappiamo anche lavorare di squadra e questo per noi è importante come italiani far vedere che siamo capaci poi di avere sempre la lucidità nei momenti importanti quindi grande fiducia grande ottimismo sempre e orgoglio di essere italiani grazie a Ivo Ferriani presidente Bob Skeleton tutti sei mai cimentata con il Bob lo Skeleton mai? con il Bob sì 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 sulla neve la discesa di fronte a casa mia il Bob sulla neve è la discesa di fronte a casa mia o il Bob o la busta di plastica modestamente sì lasciamo perdere questa pagina patetica andiamo avanti con Gianni Infantino Presidente della FIFA applausi credo che vuoi andare vorrei scendere là? no uguale come volevo ah vuole andare là chi? vuole andare io volevo andare a leggere va bene allora si accomodi io non ho niente da leggere no faccia finta che ci sia faccia finta che ci vanno è qualcosa da leggere allora come sta andando il VAR? legga legga pure benissimo benissimo anche e soprattutto grazie all'Italia ovviamente ecco mondiale senza Italia però insomma è così è così chi c'è ha meritato di esserci noi dobbiamo rimboccarci le maniche poi passare dalle parole ai fatti lavorare riformare innovare e riportare l'Italia dove deve essere al tetto del mondo anche nel calcio Sandro Campagna è un appassionato calciatore non so se hai una domanda per il presidente infantino no mi faccio i complimenti perché sta portando grandi innovazioni per il miglioramento del calcio non soltanto in Europa ma chiaramente ma anche nel mondo quindi è uno sport popolare straordinario un grande compito un grande privilegio essere presidente di questa federazione grazie sì no un grande onore effettivamente un grande privilegio è una grande gioia perché poi siamo tutti prima di essere dirigenti siamo tutti tifosi oggi se posso dirlo per me essere qua è un grandissimo onore ovviamente i premi o il premio che riceviamo noi dirigenti è molto meno importante il premio che ricevono gli atleti perché noi dobbiamo conoscere soprattutto il nostro ruolo quello dei dirigenti che è di preparare la scena per far brillare gli atleti per far brillare tutti questi campioni che sono che sono qua anche oggi dunque anche al nostro presidente il consiglio che diceva che dobbiamo essere orgogliosi siamo orgogliosi presidente siamo orgogliosi di essere italiani anche noi italiani all'estero e siamo orgogliosi soprattutto per tutti questi fantastici campioni di oggi e di ieri che sono qua grazie 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 a Gianni Infantino prego presidente tra l'altro ho letto non so se è vero che nel ranking delle medaglie d'oro olimpiche noi siamo i quinti di sempre ma una cosa spettacolare cioè l'Italia è il quinto paese al mondo per medaglie d'oro olimpiche io penso che meriti un applauso ci tiriamo ci tiriamo un po' su poi quella la scopriremo ecco il presidente del Paolo Gentiloni che premia Gianni Infantino e chiamo sul palco Julio Cesar Maglione presidente della Fina del Nuoto sì non lo so vuole leggere qualcosa presidente? no sì usted es uruguayano e también orgogliosamente italiano che siente in este momento? io siento una grandissima emozione una della più grande della mia vita se per me è un grande onore se per me è un grande onore ricevuto questa distinzione e io sento più felice e sento l'amicizia di tutti i grandi sport italiani e molta grazie se dica dica se se le dico il nome di Gregorio Paltrinieri che le viene in mente Paltrinieri è una delle grandi persone dell'esporto italiano ecco e allora premiamo Julio Cesar Maglione resti pure qui con noi Presidente perché adesso ci sono proprio i campioni che dicevamo cominciamo proprio da Gregorio Paltrinieri e chiamo insieme a Gregorio Paltrinieri la donna in rosso Federica Pellegrini ritorno alla seconda terza adesso addirittura in prima posizione sta per realizzare qualcosa di assurdo qualcosa di incredibile qualcosa di impensabile allora io qui mi sfilo e lascio la parola a Sandro Campagna che oltre a essere stato un grande palanotista è stato anche un eccellente nuotatore Paltrinieri e Pellegrini vai a ruota libera cioè il mio presidente della federazione mondiale e due grandissimi nuotatori ma di Federica è una fuoriclasse è una puro sangue io un debole per lei dal punto di vista da allenatore perché è un atleta straordinaria quello che mi è piaciuto in tutto questo suo percorso è dalla sconfitta atroce dolorosa di Rio in giro di 12 mesi è diventata campionessa del mondo quindi questa è la domanda che gli faccio come ti sei sentita e che forza hai trovato dentro di te per ritornare ai vertici dove appena 12 mesi dopo una batosta forte sì sì forte perché non salire sul podio olimpico per un decimo poi io sono abituata nella mia gara comunque faccio i conti con i decimi centesimi ho vinto molte volte per pochi decimi ho perso molte volte però sicuramente in un'olimpiade fa un po' più male e anche perché so come mi ero preparata quell'anno tutte le gare fatte in quell'anno erano andate egregiamente la finale di quel giorno è andata bene però ne è bastato per un soffio quindi veramente è stata una grande rabbia non una delusione perché io poi avevo fatto tutto quello che potevo per andare come doveva però nel nuoto è così ho pensato di smettere di nuotare perché onestamente e forse l'orgoglio più grande che ho nella mia vita è il fatto di dire che invece ho scelto di andare avanti sono riuscita nel dicembre scendere l'ultimo oro in carriera che mi mancava in vasca corta nel 200 stile ai mondiali e poi è un sogno che si avvera Budapest è stata una gara il mio ultimo 200 come lo volevo io la gara della vita la gara perfetta sono no fiera però sia fiera che onorata e ringrazio chi mi ha aiutato in questo percorso e a chiudere veramente la mia gara del cuore come volevo anche perché so che tanti atleti non hanno questa possibilità io ce l'ho avuta e quindi veramente è stato un anno faticoso però ne è valsa la pena di tutto credo che il messaggio forte che dà Federica non è tanto importante vincere lo è ma quanto risalire in fretta dopo una grande batosta ovviamente dopo questa frase a effetto hai una domanda anche per Paltrinieri sì per Gregorio il 1500 è una gara strepitosa è difficilissima lui è un interprete esemplare anche tatticamente e strategicamente io sono soddisfatto contento che lui abbia perso recentemente il 1500 Romanchuk ai europei indore una gara importante ma non importantissima perché da allenatore lo dico da questa sconfitta secondo me lui troverà gli stimoli per tre anni grandiosi no è vero hai ragione perdere ogni tanto ogni tanto credo possa stimolarci sempre di più quindi più che altro io sono sereno e convinto di quello che ho fatto e di quello che sto facendo quindi perdessi la serenità nelle cose in cui credo sarebbe un problema però per adesso mi sto allenando bene ho perso da un grande atleta e quello insomma fa parte dello sport non possiamo sempre vincere però sicuramente mi dà una spinta in più per cercare di stare sempre lì davanti grazie a Greg grazie a Gregorio Paltrinieri grazie anche al presidente Maglione Federica Pellegrini Gregorio Paltrinieri il presidente Maglione grazie per essere stati con noi sul palco ma rimaniamo nel campo del nuoto grazie a Gregorio grazie a Gregorio grazie a Gregorio grazie a Gregorio Puntino Francesco Bettella Monica Boggioni Antonio Fantin Giulia Ghiretti Carlotta Gilli Efrem Morelli Federico Morlacchi Alessia Scortechini tutti i campioni del mondo domande di libertà da parte tua soprattutto per questi straordinari campioni no no i più sempre i più e molti complimenti c'è sempre tanto da imparare io faccio una domanda a te perché mi capiti tu vicino però dopo mi piacerebbe anche sentire una parte femminile ogni volta rimettersi lì, ogni volta riconfermarsi anche ogni volta vincere, com'è? bello no, allora è la vita dell'atleta quindi vincere se si vuole è facile, confermarsi è sempre nettamente più difficile perché la mentalità passa da quella del cacciatore quindi sono dietro, devo toccare primo a quella della preda oddio, sono davanti devo rimanerci però con l'allenamento c'è la costanza c'è un movimento dietro c'è il nostro uomo in più che è Luca Pancalli che è sempre quel motore in più c'è la Fimp che ci dà una mano quindi siamo sempre al 100% protetti ecco, adesso devi andare al settore femminile devi andare Elisa grazie e qui mi comandano a bacchetta proprio e allora chi vuole chi vuole rispondere ci sono dileguate le ragazze ecco avanti lei è brava a parlare ma paga l'esperienza ecco qua allora paga l'esperienza diciamo quanta esperienza hai quanto sei fiera di avere tutta questa esperienza eh sono io non so dove mettere la donna più grande questo giro è strano anche per me perché comunque ho quattro anni ormai cinque che faccio gare a livello internazionale e ho visto comunque la squadra crescere e è bellissimo essere numerosi qua e di esperienza serve comunque e queste gare l'abbiamo visto e è stato un mondiale bellissimo e anche penso per loro che era la loro prima esperienza sicuramente grazie allora andiamo a premiare Francesco Bettella Monica Bogioni Antonio Fantin Giulia Ghiretti Carlotta Gilli Efrem Morelli Federico Morlacchi e Alessia Scortechini approfitto anche del fatto che si è avvicinato il presidente Luca Pancalli presidente Pancalli mi sembra che gli sport cosiddetti paralimpici stiano veramente eh avendo un ventaglio importante non è soltanto una o due discipline qua si va davvero si spazia in tutti i campi sportivi beh allora questo merito di un lavoro molto umile che abbiamo fatto negli ultimi dieci anni e del quale stiamo raccogliendo i frutti devo dire ma anche di un'intuizione eh la nascita del comitato paralimpico l'allargamento e il coinvolgimento delle federazioni olimpiche su molte discipline eh le energie straordinarie delle federazioni di matrice paralimpica come la fede nuoto paralimpica la federazione atletica leggera hanno come dire rappresentato gli ingredienti di questi risultati dietro di questi consentitemi di ricordare degli straordinari tecnici e delle straordinarie società senza le quali non esisterebbe a tale da alcuno perché fanno un lavoro faticoso quotidiano e vi assicuro soprattutto per il mondo paralimpico ma non solo sempre in salita sì è bene complimenti e ho una testimonianza da fare perché recentemente con il Settebello abbiamo fatto un'esibizione con la Waterpoll Ability e devo dire che una società dietro gli stava veramente dietro questi ragazzi e a parte hanno gioito perché giocare contro tempesti contro presciutti è stato qualcosa di straordinario ma la grande fatica e gioia che fanno nel fare uno sport molto difficile come lo fa la nuoto grazie all'aiuto di tante persone grazie grazie per essere stati con noi e complimenti per le vostre imprese e si avvicina l'Olimpiade invernale della Corea del Sud l'Oro Azzurro la prima volta nella storia se lo sci di fondo lascia un solco indelebile un solco azzurro sul ghiaccio di Lassi Federico Pellegrino eccolo qui prima il presidente del consiglio ha paragonato un po' la politica anche allo sci nordico per la fatica che bisogna bisogna fare per l'impegno che bisogna anche il pattinaggio bisogna sapere scivolare bene penso sia molto più faticosa la politica che lo sci di fondo anche se è faticoso lo sci di fondo adesso si avvicinano le Olimpiadi promesse da fare e soprattutto obiettivi avversari premibili più che promesse ho un obiettivo che è quello di tornare a casa con una medaglia al momento nelle ultime stagioni i risultati sono andati sempre in crescendo con il mondiale vinto a febbraio 2017 e un altro scalino quest'anno con le Olimpiadi non sarebbe male poi hai promesso se non sbaglio che se vinci una medaglia porti il ministro dello sport Luca Lotti con te in pista è vero? io so che un discesista però passare anche allo sci di fondo ogni tanto non è male ma invito tutti a fare ogni tanto anche qualche sciata in piano accetta la sfida il ministro? no diciamo sono troppo scarso per accettarla però accetto la sfida la medaglia e sono convinto che terrà alto la bandiera italiana grazie grazie ministro Luca Lotti grazie a Federico Pellegrino e rimaniamo sempre in tema di neve con lo sci alpino Giacomo Bertagnoli e Fabrizio Casal sono loro i protagonisti mondiali super combinata categoria 6 grazie siamo onoratissimi di questo grandissimo riconoscimento è veramente una grandissima soddisfazione e soprattutto un bellissimo inizio anche per la stagione che ci accompagnerà poi alla Paralimpia di Pyeongjang e quindi ringraziamo il CONI ringraziamo il CIP e ringraziamo anche le persone che ci hanno aiutato a vincere i mondiali e ancora prima a crescere nella nostra attività quindi Achille il nostro allenatore la prima guida di Giacomo e Giorgia e i nostri genitori che fanno sempre i nostri interessi e ci aiutano veramente a acquisire conoscenze competenze che solo loro ci possono dare e delle grandi soddisfazioni anche per la Coppa del Mondo ecco ricordiamo a proposito che la medaglia va anche alla guida colui che accompagna appunto l'atleta esatto io sono l'atleta e sono è un onore essere qui oggi e come come lo sci lo sci alpino è una disciplina difficile per me che sono un un vi un visual impaired è un modo mio di vivere la mia vita cercandomi di avvicinarmi sempre più a a quello che è la vita normale di tutti i giorni tutte le persone senza nessuna disabilità ed è proprio questo sport che mi aiuta a a vivere ogni giorno la vita la mia vita che è una una vita che mi piace e lo sci è il modo in cui io mi esprimo grazie per il presidente Pancalli voleva aggiungere qualcosa presidente no no ma io credo che nelle cose diceva Ariola De Dai per l'atletica e adesso nella rappresentazione di questi due ragazzi dove fanno squadra un atleta con difficoltà visive provate a chiudere gli occhi ieri lo dicevo al presidente della repubblica e a un cancelletto di partenza su una discesa andare al buio e capirete che cosa significa lo sport paralimpico ma la cosa è bella che sono compagni di classe un messaggio dove lo sport veramente dà una dimensione straordinaria grazie presidente Giacomo Bertagnoli e Fabrizio Casal li premiamo e adesso è il momento di una storia particolare una storia particolare dicevo mentre il presidente Luca Pancalli va a premiare gli atleti grazie a Bertagnoli e a Casal premio campione nello sport e nella vita Valerio Catoia allora la storia è questa che Valerio Catoia si trovava a Sabaudia il 14 luglio di quest'anno e ha salvato una bambina ha salvato una bambina che stava per affogare direi Sandro un premio mio più che meritato campione nello sport e nella vita e Elisa anche meraviglioso meraviglioso complimenti sei sei tu l'eroe sei tu l'eroe senza nulla togliere gli atleti ma tu sei un grande eroe complimenti un bacio pure da parte mia bravo il coraggio è lo spirito di aiuto nei confronti degli altri un messaggio meraviglioso grazie a Valerio Catoia viene consegnata una targa speciale premiato dal presidente del consiglio Paolo Gentironi e adesso grazie Valerio altri due protagonisi per gli special olympics Martina Casagrande e Alessandro Dressatore tutti i campioni del mondo sono Ministro Lotti mi sembra che anche a livello di special olympics l'Italia sia ormai all'avanguardia l'Italia vince vince spesso vince moltissime medaglie e il prossimo anno organizzeremo in casa nella Toscana a Montecatini il prossimo special olympics sono convinto che riusciremo anche lì a fare grandi risultati e a vincere tantissime medaglie Presidente Pancalli special olympics movimento che sta crescendo ma è un movimento che sta crescendo sempre più e insieme alla FISDIR stanno dando una risposta alla grande problematica lo sport e il disagio intellettivo e relazionale dove l'obiettivo non diventa più solo la medaglia perché è importante lo ricordava il ministro ma è soprattutto utilizzare lo sport come strumento di integrazione e per come dire migliorare la qualità della vita loro e delle loro famiglie grazie Presidente Pancalli e grazie a Martina Casagrande e Alessandro Dressadore che ricevono una targa speciale e prima pochi minuti fa ho ricevuto due gomitate nel costato da parte del Presidente Giovanni Malagò che mi ha detto prima dell'Italia devo dire due parole allora anche per spiegare come mai c'è questo riconoscimento i collari d'oro sono sono storia recente ci sono soprattutto a livello individuale degli atleti che hanno avuto il riconoscimento negli anni passati ma le squadre e qui mi riferisco in particolare oltre a quella del calcio della palla a nuoto della palla a volo che hanno vinto prima di questo anno non hanno mai ottenuto il collare d'oro nel mondo del calcio in particolare i campioni del mondo del 2006 hanno già avuto l'onoreficenza quelli del 1982 erano rimasti fuori è chiaro che nei prossimi anni saneremo anche con le altre discipline sportive un nostro impegno per cui siamo particolarmente orgogliosi che tutta la squadra del 1982 con la signora Berzotte la signora Scirea vedo Tonino Materrese che è con loro insieme a tutta la comunità del calcio oggi sono premiati con il collare d'oro al merito sportivo grazie allora chiamo grazie grazie Altobelli, Altobelli, e sono tre, e sono tre, cazzioni del mondo, cazzioni del mondo, la troppa del mondo. Ed ecco la rete di s*****o, Altobelli, chiamo proprio lui per primo, Alessandro Altobelli, Giancarlo Antonioni, Franco Baresi, Giuseppe Bergomi, Ivano Bordon, Antonio Cabrini, Franco Causio, Fulvio Collovati, Bruno Conti, Giuseppe Dossena, Giovanni Galli, Claudio Gentile, Francesco Graziani, Giampiero Marini, Daniele Massaro, Gabriele Oraeli, Paolo Rossi, alla memoria Gaetano Scirea, Franco Selvaggi, Marco Tardelli, Pietro Vierkvod e Dino Zoff. Poi c'è anche un premio alla memoria per Enzo Berzot, che viene ritirato dalla figlia Cinzia, ma volevo ricordare di quella delegazione anche il presidente Sordillo, il capo delegazione De Gaudio, il medico Becchiette. E chiamo sul palco anche il presidente Infantino. Chiamo sul palco il presidente Infantino. Dino Zoffe, intanto venga un attimo con me, perché questa lei è familiare. Allora, a beneficio anche dei fotografi e delle telecamere, vogliamo ripetere per favore quel gesto che poi venne immortalato nel francobollo da Guttuso? Vuole prendere per favore la coppa tra le braccia e alzarla, hissarla? Ho un'età, quindi farò un po' di fatica. Dov'è il presidente Infantino? Ancora salutando tutti. Presidente Infantino, prima che finiscano i saluti. Allora, Tino Zoffe, sono passati diversi anni, qualche annetto insomma è passato, ma che cosa resta di quel giorno? Beh, resta un trionfo per il calcio italiano, per gli italiani tutti, come è successo per tutti questi grandi atleti, eccetera. Quindi portare il nome dell'Italia nel mondo, nelle condizioni migliori, con delle prestazioni sia sportive sia etiche. Voglio chiamare il presidente Infantino, perché volevo sapere dove si trovava quel giorno di luglio del 1982. Domodossola, a Domodossola con la famiglia, con i parenti, con gli amici, in 50 in un salotto, l'unico salotto a Domodossola dove c'era la televisione a colori, più o meno, dunque a fare il tifo sfrenato per questi magnifici eroi. Volevo... Marco, tu sei famoso per l'urlo liberatorio. Solo per quello? Spero non solo per quello. Sì, vi da ancora... No, no, scusa un attimo, Fulvio. Sono 35 anni che ce l'ho meno a questo urlo. E' assolutamente ragione, guarda, perché mi è rimasto quello qui. Il gesto più bello non ci poteva essere. No, il gesto bello è stato il gol, poi il resto è che usciva dal cuore. Penso che sia per me un ricordo molto importante. Vedo anche per molte persone che sono qui con noi. Petrucci, che da tanti anni che non vedevo, sono felice di vederlo. Carraro, Pescante, ci sono personaggi che ci hanno accompagnato in questa avventura e credo che sia molto importante. C'è anche il nostro mio amico Matarrese che ho rivisto con piacere dopo tanto tempo. Ringrazio tutti. No, io non ho mai litigato con lui, abbiamo sempre chiacchierato, dialogato. L'urlo comunque è venuto perché mi hanno dato la possibilità i miei compagni e credo che sia loro. E' una grande persona che purtroppo qua non c'è oggi, ma c'è la figlia che lo rappresenta, che è il figlio di Scirea, che è Riccardo. Ci mancano molto quelle persone. Grazie. Signora, vuole dire qualcosa a proposito di suo marito e di quell'impresa straordinaria? Il mio padre. Il mio padre, chiedo scusa. Ma innanzitutto voglio dire che a nome della mia famiglia siamo anche molto grati ed orgogliosi di questo riconoscimento. Io vorrei dire che lo intendo anche come un riconoscimento non solo al successo che è stato realizzato, ma direi anche l'idea di sport che mio padre aveva, che è un'idea di sport che ritiene che lo sport è attore di promozione di valori, educazione, di formazione, valori come l'impegno personale, il sacrificio, la solidarietà, la cooperazione. Ecco, io penso che questo premio vada inteso anche in questo modo. Siamo molto grati, ripeto, per questo riconoscimento. Grazie, signor Presidente. Volevo ricordare anche il presidente Sordillo, che mi sembra... Sì, l'abbiamo ricordato. La tua reazione invece è stata più composta, Spillo. La mia reazione al gol? Sì. Allora, Tardelli, dopo quel gol lì, ha smesso di giocare. Se io dovevo festeggiare tutte le volte che ho fatto dei gol in quel modo, avevo smesso cinque anni prima. E poi c'è l'incubo dei mondiali. Vieni avanti, Paolo. Paolo Rossi. Buongiorno. Prego, prendi pure il microfono. Guarda, in sala c'è un tuo amico, Zibi Boniek, che ricorda tanto bene la semifinale mondiale. Che gli mandi a dire? Non c'era, non c'era. Era in tribuna, Zibi. Per fortuna, fortuna nostra, davvero. No, quel mondiale, credo che sia... Mi sembra che Dino l'abbia detto più volte, Dino Zoff. È un mondiale davvero irripetibile. Stare a descrivere i motivi, il perché è andata così, sarebbe davvero difficile. Mi piace questa cosa che noi siamo tutti qua, tutti qua in gruppo. Cioè, questa è una vittoria del gruppo. Beh, Arzotta era un sostenitore del gruppo. I dirigenti qua, se lo ricorderanno, senza il gruppo non si va lontano. Ma non è vettorica. Io, se oggi sono qui e sono uno degli artefici di quel mondiale, lo devo davvero a loro, lo devo a quel gruppo. Perché, esatto, è a loro che mi hanno sortato. Perché, insomma... Non supportato, è sopportato. Supp e sopp, tutte e due. Entrambe. Entrambe le prime tre partite, ma dice Carraro. E quindi è stata davvero una cosa straordinaria sotto tutti gli aspetti. Che dire, davvero una felicità. Credo che, dopo quel mondiale lì, noi siamo tornati in Italia col presidente Pertini, che ci ha accompagnato gentilmente col suo aereo. E ricordo ancora, siamo atterrati a Ciampino. Da Ciampino arrivare al Quirinale c'era una quantità di gente. Sembrava la fine della guerra, insomma. Una cosa simile, insomma. Come la liberazione. Io non ho mai visto tanto entusiasmo così in Italia. E la cosa che mi ha reso più orgoglioso, lo dico perché è una cosa, anche questa vera, non sono tanti ricordi dei gol, che quelli, va bene, sono un ricordo bello, che rimane. Ma è stata, dopo la finale, la Germania, i ragazzi stavano facendo il giro dello stadio con la Coppa del Mondo in mano. E a un certo punto mi sono lasciato prendermi. È venuto un crampo, mi sono fermato, mi sono buttato sotto un cartellone pubblicitario, e ho alzato la testa al cielo e ho visto lo stadio pieno di bandiere italiane. E quella è stata la cosa più bella in assoluto, cioè un senso di appartenenza incredibile. Però i successi non si costruiscono soltanto in attacco con i gol, ma anche con la difesa. E quanti di noi avrebbero voluto essere Claudio Gentile quel giorno che marcava Maradona? Ma non soltanto Maradona. Non è che fosse un compito così facile. No, dico, ha risultato avvenuto. Ha risultato avvenuto. Prima, scusami le spalle. Io non ci ho creduto neanche dopo la partita, quindi, di aver essere riuscito a neutralizzare un giocatore del genere. E poi, tra altre cose, ho perso anche la seconda, quella con Zico. Quindi, insomma, ho avuto un periodo un po' così, però dopo mi sono ripreso bene. Grazie, Claudio Gentile. Presidente Gentiloni, cosa ricorda di quel giorno? Come lo ha vissuto? E soprattutto di questi campioni. Guardatevi, ci sono tutti campioni ancora sempre verdi. Chi è che l'ha impressionata maggiormente? Beh, grazie al Sempreverdi perché siamo coetanei, quindi più o meno. Ma ricordo che andavamo tutti per strada a fare un po' di festa. E fu un'esperienza meravigliosa. Ma a me piace ricordare la squadra. No, poi, essendo anche juventino, ricordo Scirea in modo particolare. Però... E c'è anche suo figlio che è qua. Noi prima ci chiedevamo, ma chi è quello così piccolo che ha vinto i mondiali nell'82? E invece è il figlio di Scirea e mi consente di ricordare di nuovo Scirea e tutti quanti. Perché ha ragione Paolo Rossi, ha vinto la squadra e ha vinto l'Italia. E ricapiterà. Arrivederci. Ti capita mai di rivedere quella finale, o quantomeno le partite di papà? Sì, sì, mi capita spesso rivederlo perché sono ricordi bellissimi. E il piacere è veramente essere qua insieme a questi grandi campioni. E orgoglioso di essere qui nel ricordo del mio papà. Grazie Scirea. Andiamo ancora da Dino Zoff. Che volevi dire? Volevo dire una cosa. Non riuscivo, guardando il presidente Gentiloni, con grande simpatia e con grande affetto, a trovargli un difetto. Questa mattina ho capito che anche lui c'è un difetto. Qual è? Quello di essere juventino. No, vabbè. Ma al di là, al di là della battuta, al di là della battuta, ho tanti amici juventini di onore a questa grande squadra che ci rappresenta in maniera così bella e dignitosa in giro per il mondo. Quindi era solamente una battuta la mia. Ma hai fatto benissimo. Microfono ancora a Dino Zoff. Allora, adesso, al di là del fatto che non ci sarà spazio per l'Italia e i prossimi mondiali, quando rivedremo un'Italia formato in Spagna? Beh, formato in Spagna ci vorrà del tempo, naturalmente, perché i tempi sono diversi. Ci sono meno giovani italiani che giocano al calcio, hanno tante altre attività sempre nello sport. Quindi, al di là delle considerazioni dei settori giovanili o meno, io credo che veramente ci siano problemi di quantità che poi arriva fuori anche la qualità. Diciamo, il calcio adesso, come adesso, si sposta al sud. Vediamo l'Africa, l'America del sud, eccetera. Quindi queste sono considerazioni che vanno a tener conto. Grazie, grazie a Dino Zoff e mentre proseguono le premiazioni. Sandro, tu quanti anni avevi quando l'Italia ha vinto il mondiale nell'Organizzazione? Ho 19 anni, ero già in Nazionale di Pallanota, eravamo in Ungheria al proneo premondiale, quindi ricordo quella finale in un albergo e facevamo una festa incredibile. Fu una partita anche abbastanza facile perché fu dominata dall'inizio alla fine. Dall'inizio alla fine, è vero. Questo è un ricordo senz'altro giusto, mentre nel 1982 nasceva Elisa Di Francisca, per cui tu l'avrei recuperato da qualche DVD, quella finale mondiale. Sì, 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 l'ho rivista con piacere. E mentre nascevo sentivo un po' del chiasso fuori dall'ospedale, ma non capivo cosa fosse. Volevo chiedere a Bruno Conti se ogni tanto sente Briegel, se quantomeno Briegel se lo sogna ancora Bruno Conti sulla fascia. Non lo so, bisogna chiedere a lui. Io, prima di tutto, vorrei ringraziare il Presidente Giovanni Malagò perché a distanza di 35 anni oggi sta facendo vivere una giornata per noi indimenticabile. E poi, per quanto riguarda questo gruppo, un gruppo di grandi professionisti, diciamo anche a livello umano, insomma, dà un aiuto. Noi, in questo caso, da Tardelli, Oriali, che hanno macinato i chilometri, Ciccio Graziani, Paolino è stato il capo cannoniero, ha fatto 10 chilometri in tutto il mondiale, in 7 partite. Per cui, in quel momento abbiamo dato una mano anche a Paolino Rossi. Per cui, grazie a tutti e buone feste a tutti. Grazie. E grazie alla Nazionale del 1982. Grazie ad Altobelli, Antonioni, Baresi, Bergomi, Bordonna, Cabrini, Causio, Collovati, Conti, Dossena, Galli, Gentile, Graziani, Marini, Massaro, Oriali, Rossi. Abbiamo avuto anche il figlio di Gaetano Scirea, Franco Selvaggi, Marco Tardelli, Pietro Vercovod, Dino Zoff. Abbiamo consegnato anche un premio alla memoria di Enzo Berzot. Ed è il momento adesso... Ringraziamo anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Allora, andiamo un po' avanti, Sandro. Perché adesso è il momento dei tecnici. Per la palla a volo chiamo Marco Bonitta, per la scherma Attilio Calatroni, per il canottaggio Francesco Cattaneo, per la palla a nuoto Fabio Conti, per il ghiaccio Maurizio Marchetto e per il judo Dario Romano. Prego salire sul palco. Fino adesso cosa è che vi ha impressionato di questa cerimonia, che vi ha colpito in maniera favorevole, voi che siete abituati a vi porti. Tu come tecnico, tu invece in pedana. A me quello è impressionato sia negli sport di squadra che comunque anche in quelli individuali. E abbiamo visto quanto sia importante fare squadra anche in quelli individuali, in special modo nei sport parolimpici. Quando l'Italia sa fare squadra, riesce a ottenere grandi risultati. Quando l'Italia riesce a fare squadra. Esatto. Elisa, cosa ti ha impressionato per il momento di questa cerimonia, che comunque hai visto, non dimentica nessuno, perché il CONI ha richiamato i campioni di 35 anni fa. Certo, certo. È stato diverso viverla da quassù, insomma. Mi ha impressionato la forte fierezza di essere appartenenti ad un'Italia che comunque è ancora vincente, è ancora molto, ma molto competitiva. Adesso passiamo ai tecnici. Allora, Maurizio Marchetto. Si avvicinano le Olimpiadi. Si avvicinano proprio le Olimpiadi. Abbiamo ultimamente ottenuto dei risultati che forse erano insperati e quindi fa pensare senza montarci troppo la testa. Però innanzitutto devo dire una cosa che ringrazio il CONI e il Presidente Maragon per questo invito a questa manifestazione e alla Federazione Italiana Sporghiaccio e al Presidente Andrea Gios per avermi dato l'opportunità per essere qua. Lei sarà chiesto al Presidente per fare tifo? Certo. Siamo lì dal primo all'ultimo giorno. Ha ragione, hanno fatto un gran lavoro. Abbiamo qualificato praticamente tutto quello che era possibile. Poi lui ha una lunga storia di successi e la garanzia è migliore. Ma tutti loro sono dei grandi allenatori. Credo che oggi ricordare i tecnici sia altrettanto importante che gli atleti. Assolutamente. Grazie. Grazie. Senta, Ministro Lotti, ma... Chiedo scusa per le spalle. Il Ministro dello Sport, a quale disciplina olimpica si può paragonare? No, no, no. Questo non è... Non esistono paragoni. Anch'io colgo l'occasione per ringraziare i tecnici e i dirigenti perché sono quella parte che sta dietro e che non si vede ma che è il pezzo, uno dei pezzi più importanti del lavoro di tutti questi ragazzi. e quindi veramente il grazie va al lavoro di tutti questi anni e di questo anno fantastico perché una buona parte del merito è proprio grazie a loro. Grazie, Ministro. E vi ringrazio anche come tecnici. A te quale settore piacerebbe guidare, Elisa? A parte la scherma. La macchina. Mi basta. La macchina ti basta. Mi basta la macchina. Sandro, certo, fare il tecnico non è cosa semplice. Quanto è differente dall'essere atleta? È completamente diverso. L'atleta ha un punto di vista abbastanza, se vogliamo dire, anche egocentrico e l'allenatore deve avere una visione a 360 gradi di tutte le problematiche. Per cui sono d'accordo con il Presidente Malagò e con il Ministro Lotti quando il tecnico è al centro dell'organizzazione sportiva è un buon tecnico per valorizzare una squadra, una società, una federazione. Grazie. Se posso dire... Velocemente sì. Sì. Una cosa, cioè, questo riconoscimento non è soltanto al tecnico ma è anche alla cultura, alla scuola sportiva italiana che ci ha permesso di arrivare a ottenere questi risultati. Grazie. E adesso voltiamo pagina e passiamo alle società. Bologna Football Club Motoclub Pavia Circolo del Golf di Roma Acqua Santa Rarinantes Torino Società Ginnastica Etruria Prego avvicinarsi sul palco Sono tutte società, Sandro, di un grande spessore di una grande... Soprattutto la società ginnastica Etruria di Bologna Football Club fondato nel 1909. Insomma, c'è una grande tradizione alle spalle di tutte queste discipline. Ma il mondo dello sport in Italia è fondato sulle società quindi senza il loro grandissimo lavoro non si potrebbero produrre atleti e allenatori di valore. Eccovi, complimenti ed eccoli i gonfaloni Elisa Dimmi Andrea La società che ti ha colpito maggiormente tra Bologna Motoclub Pavia Circolo del Golf di Roma Rarinantes Società Ginnastica Etruria A quale società ti piacerebbe fare? Tutte Tutte Indistintamente In maniera così proprio democratica Ecco, mettete il gonfalone vicino e siamo pronti per i riconoscimenti al Bologna Football Club al Motoclub Pavia al Circolo del Golf di Roma alla Rarinantes Torino e alla società ginnastica Etruria Vi ringrazio Se vengono consegnati i premi è così perché abbiamo pochissimi minuti a disposizione Allora intanto chiamo sul palco il direttore del Corriere dello Sport Alessandro Vocalelli e il direttore di Tutto Sport Paolo De Paola Alessandro Vocalelli che è il direttore di un quotidiano sportivo più longevo in Italia soltanto Candido Cannavò ha superato il record di Vocalelli grazie intanto per essere stati con noi e complimenti ancora Allora velocemente perché non abbiamo purtroppo molto tempo che titolo farete domani sui vostri giornali a proposito di questa cerimonia Ma che è stata una mattinata bellissima di grandi campioni e di grandi emozioni per cui è stato un onore essere qui io ringrazio naturalmente il CONI per questo riconoscimento che è tutto del nostro e della famiglia Medei di Roberto Amodei che ci ha dato la possibilità sempre anzi ci ha stimolato a fare un giornale anticonformista controcorrente che dia delle risposte chiare e faccia delle domande scomode e questo è quello che continueremo a fare anche in futuro grazie Andrea La vostra promessa? Sì il racconto dell'emozione cioè bellissimo non solo i ragazzi dell'82 ma tutte quelle che si sono alternate sul palco insomma è sempre più difficile sulla carta trasmettere questo tipo di emozioni ma noi cerchiamo di di trasmetterle perché se non viviamo di sport lo sport lo sport trasmette questo ed è quello che noi cerchiamo di fare quotidianamente per distinguerci un pochettino dalla famelicità della notizia perfetto grazie riceve le stelle d'oro Alessandro Vocalelli direttore del Corriere dello Sport e Paolo De Paola direttore di Tutto Sport ecco la foto di rito con il presidente Gentiloni e il ministro dello Sport Lotti presidente del CONI Giovanni Malagò presidente del comitato italiano paralimpico Luca Pancalli prego presidente credo che manca solo il comitato regionale CONI Lombardia chi ha vinto in tutta Italia il trofeo CONI tra tutte le regioni vince quest'anno la Lombardia peraltro il cui presidente un grande campione Oreste Perri complimenti mi sembra che la forma sia sempre ciao intanto mi sembra che sia sempre quella di un tempo cerco di mascherare un po' perché infatti adesso c'ho un problema un ginocchio io sono salito con difficoltà io volevo ringraziarvi ringraziarvi tutti perché oggi ricopro il ruolo di dirigente dello sport e facciamo molta promozione sportiva proprio in fione dell'educazione attraverso lo sport e quindi abbiamo certo anche una grande responsabilità parlo dei campioni parlo delle persone che si dedicano in modo agonistico proprio per vincere le gare siete degli esempi per i giovani e quindi voglio ringraziarvi che fate e dirvi che la nostra squadra deve continuare a lavorare perché i giovani si avvicinino sempre più allo sport non tanto solo per vincere le Olimpiadi ma soprattutto per crescere in modo educato è sano è sano grazie Oreste Perri viene premiato dal presidente del consiglio Paolo Gentiloni in questo momento Oreste Perri è più attratto da Elisa Di Francisca me ne rendo conto allora siamo in chiusura con la premiazione Oreste Perri io ringrazio il presidente del consiglio Paolo Gentiloni il presidente del CONI Giovanni Malagò il presidente dello sport Luca Lotti posso evitare le medaglie d'oro che hanno fatto grande il paese Daniele Josefa Nino per cortesia Carlo Michele Nicola per favore una foto di gruppo finale ci tengo inviate pazienza col presidente Gentiloni con questo fuori programma tutti Johnny Diana Margherita per cortesia tutti i campioni venite sul palo per favore e ringrazio anche Luca Pancalli ciao ragazza Sandro Campagna e Elisa Di Francisca per essere stati anche Giusefa non l'ho chiamata grazie e ci vediamo il prossimo anno con i collari d'oro con i collari d'oro e con i collari d'oro e con i collari d'oro con i collari d'oro Grazie a tutti.